Assemblea ordinaria e ricorrenza per la sezione provinciale di Bolzano dell'Unione Italiana, Cechi e Ipovedenti. Via libera alla relazione morale e finanziaria sull'attività 2008, come anche alla variazione al bilancio preventivo 2009, in occasione della riunione annuale della sezione altoatesina dell'Unione Cechi, che in provincia di Bolzano assiste 970 persone, di cui 240 cechi assoluti, 530 cechi parziali, 200 ipovedenti medio-gravi. Sulle prospettive future abbiamo sentito il presidente provinciale dell'Unione Cechi, Josef Stockner, che tra il resto annuncia finalmente la soluzione al problema che si trascina ormai da anni, quello della mancanza dell'annuncio delle fermate a bordo dei bus. E poi abbiamo anche raggiunto ancora in autunno del 2008 che la provincia comincia finalmente a realizzare l'annuncio delle prossime fermate nei mezzi pubblici e stanno facendo adesso 150 autobus, stanno adottando di altoparlanti e alla fine di aprile dovrebbe funzionare almeno sul servizio Sasa, Bolzano, Linea Merano e Amerano. Il ritrovo è stata occasione anche per ricordare che quest'anno ricorre il sessantennale della sezione della provincia di Bolzano dell'Unione Italiana Cechi. Naturalmente è una bella occasione di guardare indietro quello che si è riuscito a fare e in più naturalmente è uno stimolo per vedere cosa possiamo nel futuro ancora raggiungere. È importante ricordare che è possibile destinare la quota del 5 per mille dell'IRPEF all'Unione Cechi. Infine l'Assemblea ha rimarcato il generoso apporto venuto dalle offerte dei privati che ha compensato anche il sostegno dell'ente pubblico che è in parte calato.